Molte novità qui dallo stand Ducati che ieri ha presentato tantissimi modelli due multistrada addirittura, una è la versione speciale Pikes Peak 2016 l'altra invece la vedremo fra pochissimo, è la multistrada 1200 Enduro una vera e propria novità, il debutto nel mondo del fuoristrada del fuoristrada quello serio da parte di Ducati che sicuramente non mancherà di attrarre moltissimi clienti la vediamo qui alle nostre spalle, la vedete nelle nostre immagini ma non di solo a multistrada, vive Ducati, perché? perché anche il mondo delle sportive è stato rinnovato con la 959 Panigale in questo momento alle mie spalle, una sportiva che non mancherà di proporre cavalli a sufficienza sono ben 157 i cavalli che questa 959 Panigale scarica a terra quindi sicuramente ce n'è per tutti i gusti andiamo invece nella zona buia di questo stand Ducati zona buia perché? perché Black è il nuovo colore che Ducati porta all'interno della sua gamma con X-Diavel X-Diavel è una Cruiser ma in realtà è un modello particolare perché? perché questa Cruiser va, ora la vedete alle mie spalle a unire due mondi il mondo delle Cruiser, quindi quello dove ci si gode la strada lentamente e con tutta calma ma anche il mondo delle moto sportive perché questa Cruiser riesce a piegare fino a 40 gradi quindi sicuramente non si tratta di un bestione ingombrante e difficile da muovere novità infine anche per la famiglia Hyperstrada, Hypermotard con le 939 c'è per la Hypermotard anche la versione SP che sicuramente sarà più attraente per chi cerca una dotazione più completa in questo caso le novità sono poche ma sono di rilievo perché si tratta di modifica al motore che si aggiorna allo standard Euro 4, cresce in potenza e cresce anche in coppia infine chiudiamo brevemente con l'angolo scrambler con la X-D2 un nuovo modello di una gamma che Ducati ci ha già anticipato si evolverà in futuro si evolverà con tantissime versioni quindi non si tratta solo di un esperimento lanciato l'anno scorso ma di una vera e propria gamma che in futuro non mancherà di riservarci sicuramente delle sorprese per il momento con lo stand Ducati è tutto vi ricordiamo che troverete già i nostri approfondimenti con immagini e foto dei modelli Ducati su hdmotori.it un saluto a tutti i lettori da IronMail